Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quando pensiamo ad eleganza i primi capi che magari possono venirci in mente sono un bel tubino nero, un abito lungo, una stoffa importante, è vero, però eleganza è anche sinonimo di semplicità, di piccoli e delicati tocchi di luce, proprio quelli che riscontreremo con questo articolo, vale a dire il Wanda. Analizziamolo nel dettaglio. Eccolo qui il nostro Wanda, allora questo gomitolo da 50 grammi per una lunghezza di circa 75 metri, composto per il 49% cotone, 7% lana, 18% acrilico, 15% poliamide, 6% acrilico, viscosa e 5% fibra metallizzata. Avete sentito bene, il Wanda davvero accontenta tutti. Ed esatto, avete sentito anche fibra metallizzata, questo tocco di lurex che insomma è molto evidente, ma credetemi è davvero impercettibile al tatto. Anzi, quando lo toccherete sentirete davvero solo la morbidezza, la praticità e la sofficità del cotone, della lana e dell'acrilico. Per lavorare questo Wanda consigliamo o i ferri 5-6 oppure l'uncinetto 6-7. Veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio della vostra creazione. Allora, sicuramente consigliamo il lavaggio a mano a temperatura non troppo alta, è possibile stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi, non è possibile candeggiarlo, è possibile utilizzare tutti i solventi eccezione fatta il tetra cloretilene. E per quanto riguarda l'asciugatura, sconsigliamo l'asciugatrice per l'appunto, ma piuttosto consigliamo di riporlo in una posizione piana, lontana da fonti di calore eccessive. Adesso però analizziamo il Wanda nelle sue 7 varianti di colore, iniziando proprio da questa, ma lo analizzeremo ancora meglio con il suo telino. Questa che abbiamo visto finora è appunto la variante Avio. Allora, lo vediamo benissimo nel telino. Il colore predominante è appunto sicuramente l'Avio, ma all'interno ci sono questi tocchi di luce e di colore che vanno da rosa al rosso o ancora al giallo, che sicuramente ben spiccano proprio con questo contrasto. Questa che vediamo qui invece è la variante blu. In questo caso, diciamo, il contrasto è sempre presente, infatti vediamo questi tocchi di rosa, ma a differenza dell'Avio ci sono dei tocchi di luce e di colore che tendono più appunto proprio alla variante di base. Infatti vediamo anche un bel turchese, anche un verde acqua. La variante che vediamo adesso è sempre molto scura, ma questa volta parliamo del nero. Infatti quello che vediamo proprio qui come colore predominante è appunto sicuramente il nero, messo però davvero molto bene in risalto da tanti colori diversi, che vanno dal blu al turchese al giallo, anche piccoli sprazzi di rosa, davvero molto molto bello. Questo invece è il colore mattone, quindi un bel marrone molto scuro, messo in risalto, eccolo qui lo vedete, qui lo vedremo sicuramente anche meglio, da un bel viola e un bel giallo. E qui invece abbiamo il prugna, eccolo qui, un bel prugna messo in risalto anche qui da piccoli colori, che vanno dal grigio perla al glicine, ma credetemi ci sono anche dei piccoli toni, di un verde molto molto scuro, che davvero insomma daranno un tocco di originalità alla vostra creazione. Ma quando parliamo di eleganza e di glamour non possono mancare anche i colori chiari. E nel Wanda ne ritroviamo ben due. Questo è il primo, il cipria, lo vedete, messo in risalto da questa fibra dorata e poi da questi sprazzi di colore, che tendono tutti proprio appunto al cipria, proprio per non alterare, non andare in contrasto eccessivamente con il colore di base, ma rimanere comunque ad avere un tono molto uniforme. E il secondo colore chiaro del Wanda è questo, che è l'écrou. Allora, in questo caso vediamo appunto il colore di base ecru, questa volta messo in risalto dalla fibra metallizzata color argento, ma anche da piccoli e leggerissimi e delicati contrasti che tendono a un grigio molto molto scuro. Però l'ecru di base, insomma, è sicuramente il colore predominante del nostro Wanda. Elegante sicuramente, ma anche glamour. Il Wanda, infatti, grazie ai suoi colori e ai suoi piccoli e delicati contrasti che ha al suo interno, vi consentirà di realizzare delle creazioni davvero molto alla moda. Quali ad esempio capi per lo più di maglieria esterna, come ad esempio un bel cardigan maxi size, magari con una bella cintura per mettere in risalto la vostra figura femminile, o magari anche una piccola mantellina per una bimba, o ancora una calda e avvolgente stola, uno scialle, un mega sciarpone, davvero per riscaldarvi durante il rigido inverno. Oltretutto, grazie al fatto che non abbiamo uno spessore così sottile, anche per le principianti sarà possibile realizzare delle creazioni, come abbiamo detto adesso, glamour, ma soprattutto eleganti, in modo tale che davvero chiunque possa avere quel tocco di luce e di eleganza, anche perché, come diceva Audrey Hepburn, l'eleganza è l'unica bellezza che non svanisce mai. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo soprattutto di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo articolo, ciao! Noi ci vediamo al prossimo articolo, ciao!